A Milano presentate la collezione pop art di Fulvio Bernardini in arte Fulber. Una mostra d'arte in realtà aumentata, dieci multipli su tele di grande formato riproducenti le opere dell'artista trentino esposte in Europa rivisitano protagonisti della pittura del Novecento con omaggi anche alla corrente futurista di Marinetti e al re del rock'n'roll Elvis Presley, da Salvador Dalì a Roy Lichtenstein, da Pablo Picasso a Kate Herring e ancora Amedeo Modigliani, Frida Kahlo, Vincent Van Gogh, esposte nel foie degli Arcimboldi che ospita le stagioni della Scala. Le opere sono dotate della tecnologia digitale che permette un coinvolgimento diretto dei visitatori per vedere in tempo reale il progetto visionario immaginato dall'artista per ogni singolo quadro semplicemente inquadrandoli utilizzando l'app Arcimboldi. Un processo di trasposizione proietta il fruitore all'interno del mondo immaginario di Fulber. Azioni, effetti sonori e movimento che rendono vivo il dipinto vengono trasferiti al visitatore. Il progetto visionario di Fulber è il sogno evocato dal movimento artistico letterario d'avanguardia fondato nel 1909 da Filippo Tommaso Marinetti che a distanza di cent'anni sposa la digitalizzazione del ventunesimo secolo.